Non conviene salirci, non riposso E' lei che la gioca, non è? Tony, Tony, non conviene, non conviene Non conviene Eeeh, si sta, si sta buggando, si è buggato Sto fattuando Sto fattuando, potremmo chiudere Ma la vita si ricarica, la vita Sembra di sì Tony, dietro Madonna, ma che... Tony Guarda la mappa, guarda la mappa, guarda la mappa Guarda la mappa Che sei bravo, Tony, in prima verità Ma che c... Ma sei malato, non si fanno queste cose C'è un topo che ci guarda Non più Ok, guarda se c'è Ricompense? No, ci saranno foto vere, vediamo se sono foto vere queste Eh sì, sono foto vere Chi è questa porcona, aspetta Se è una... No! La volevo vedere! No! Tony! Chi è? Oh! Devo solo aspettare No! 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 Non mi troviamo un problema Non c'è un cazzo! No! Ferito parlo con i boy ma si è in te stiamo giocando a The Division e stiamo provando a vedere se l'audio se nel video finale si sentira la mia ebbè ebbè